Pinto ricevendo il Matera, De Vena prova a calciare a rete, De Vena! Eurogoal di De Vena! Eurogoal di De Vena! Ha visto il portiere fuori, ben fuori dai pali, ha calciato di sinistro a giro Alessandro De Vena. Terzo gol della Casettana e doppietta per De Vena. Vivo Marra c'è il portiere fuori, prova un passaggio, 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 un passaggio! A portarti che ha insisto la pista, lo abbiamo dato a Paglia. Un gol a Pazzesco! Il gol a Pazzesco! Il gol a Pazzesco! Il gol a Pazzesco! Grazie.